video che tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi grazie a Konami siamo qui con l'apertura in anteprima dei nuovi team di quest'anno ovvero 25esimo anniversario specchio di duellanti è ora di duellare detto questo ragazzi qua dentro cosa potremo trovare ovviamente moltissime di stampe e ovviamente come è successo anche per i set precedenti troveremo le carte quarto di secolo detto questo andiamo subito ad aprirlo perché sono molto curioso andiamo subito con il primo e vediamoci un po un attimo come è fatta la confezione perché comunque qualcosina è stato spoilerato già sui bordi avremo ovviamente drago bianco regno toon maga nera xyz i congegni che ragazzi sono la cosa che più ambisco sinceramente perché tipo ho iniziato la mia carriera competitiva con i congegni e finalmente hanno una rarità che gli dà onore poi abbiamo un curigualato che era solo promo dei videogiochi andando avanti abbiamo yubel e l'onesto e poi vabbè altre cartine interessanti tra cui doppi utopia squalo bahamut e vabbè così c'è robina interessante molta roba nostalgica che sinceramente a me di trovarla quarter non dispiace poi ovviamente ci sono tante carte da poter giocare tipo vabbè piccolo cavaliere il reparto orus nel senso anche quelle mi fanno abbastanza comodo perché comunque ancora non ce le ho partiamo e tiriamo fuori i tre pacchetti si partiamo con il primo e vediamo cosa riusciamo a trovare partiamo con una comune che è queen query poi elogi million century new world abbiamo giga istruttore che comunque era stato ristampato poco tempo fa all'interno dello structure deck dei re del fuoco però quello era comune questo è bello potente mamma mia quanto è figo che poi ragazzi nel senso adesso sto guardando questa eh ma ho appena trovato l'artwork alternativo di ray jacky cos life è che lo spara ragazzi non vorrei dire ma è incredibile poi con questa rarità secret è proprio spaziale questa è mia e poi vabbè come ultra abbiamo diabolantis una carta mikanko carta centurion e poi torniamo con le comune abbiamo smashing the immortal bushi how did new world e basta bene bene primo pacco è andato veramente ma veramente bene allora andiamo con il secondo e speriamo di trovare le altre carte con artwork alternativo allora abbiamo carta superivi evoluzione pendulum hydralander giant e wake up bellissima l'unica cosa è che io mi emoziono ogni volta che trovo la carta quarto di secolo però nel senso ce n'è una pacchetto quindi non devo agitarmi anche se comunque è bellissimo è trovare dai dai mi sta andando bene adesso vediamo qual è la secret uh c62 il neo galaxy ice prime onestissimo ci sta adesso vediamo cosa c'è sotto carta illusion poi sneaky c e might dino king rex va bene la cosa particolare di questi team è che hanno praticamente elevato le super e le rare vabbè meglio così almeno diciamo quasi tutto ovviamente tranne le comuni è di realtà veramente alta soprattutto le carte interessanti allora andiamo avanti andiamo con card scanner caduceo giurassic power ok grid jar e sotto la quarto di secolo un scorpio ok la preda pianta ci sta adesso vediamo la secret e dai un'altra regia no stake your soul bellissima di vanquish che poi era ultra adesso l'hanno fatta pure secret ci sta questo aumento di realtà poi andiamo avanti con le ultra abbiamo richardetto poi ultimate great insect e red arrow va bene ok poi per il resto abbiamo new world cash tira a castra how did e shell of chaos andiamo con il secondo e speriamo di tirare fuori un congegno perché ragazzi io quelli cerco e vediamo andiamo con il primo e vediamo se la fortuna mi assiste abbiamo chaos carta branded giant x is entrust l'onesto abbiamo trovato bellissimo soprattutto lei visto che sono usciti supporti fedele è uscita la ristampa di luce la distruzione ci sta ci sta mi va benissimo vediamo adesso come come secret cosa abbiamo abbiamo carta snake eyes birch bellino visto che usciva super quindi ci sta questa mente realtà e vediamo le ultra abbiamo scaric love cash tira poi emperor e stand up centurion anche questa molto interessante soprattutto perché centurion non è assolutamente male da montare come mazzo e per concludere abbiamo mina mina e ruka bene penultimo pack peccato perché diciamo che ci stava andando bene mi sarebbe piaciuto sbustare un altro po allora abbiamo numero on creation poi hydralander click rebirth e come quarto di secolo abbiamo parallel xid figo ci sta dai bellissima come carta oh finalmente anche a questa hanno dato una rarità più alta visto che comunque se non ricordo male esisteva da esisteva comune secret da tin e super quindi diciamo quarto di secolo non assolutamente male e come secret invece abbiamo la morganite dai dai ci sta andando bene mi posso ritenere soddisfatto passiamo adesso alle ultra abbiamo labyrinth ivi aluber e come ultima e volzar lios ok poi vabbè come comuni abbiamo carta mannadim manticore e carta ice jed e double double dust passiamo all'ultimo che sono stra mega curioso di capire cosa posso trovare e speriamo speriamo nel gadget dai che non è la carta più ricercata del mondo però ragazzi io sono giocatore di gadget da 15 anni allora abbiamo lo scanner carta super ivi caduceo dai dammi il gadget dammi il gadget lo speedroid ok va bene questa si sapeva comunque perché avevano messo il disegno sulla scatola quindi ok vediamo invece la secret dai berfomet carta per il mazzo chimera quindi vabbè ci sta passiamo adesso alle ultra abbiamo loris emergency che comunque non aveva grosse rarità e poi fire engine dei rescue ace abbiamo epic of chars real mary resonance double head carta godotica e basta bene ragazzi dai mi posso ritenere soddisfatto comunque le quarta di secolo che ho trovato non sono assolutamente male ho trovato alcune di stampe molto interessanti ma soprattutto ragazzi i ray jack che fortuna lo volevo mi è andata bene diciamo che speravo anche nelle altre però comunque intanto una me la sono portata a casa detto questo ragazzi ovviamente fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo prodotto e ovviamente se lo acquisterete io già acquistino l'ho fatto quindi fatemi sapere se lo farete pure voi e noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti